Il titolo di questa sera, ne parliamo ovviamente con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, bentornata in studio. Grazie, buonasera. C'è anche il nostro direttore Gennaro Sangiuliano. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo poco tempo, lo sa, sono 20 minuti, quindi partiamo subito dalle parole con cui lei ha definito il reddito di cittadinanza, ossia metadone di Stato, una definizione che ha creato non poche polemiche. Ieri in questo studio il vice segretario del Partito Democratico Provenzano le ha criticate con parole e espressioni molto forti. Lei la ribadisce la sua definizione? Ma guardi, non so che cosa la sinistra consideri forte in questa definizione. Io ho detto una cosa molto precisa. Ho detto che la mentalità con la quale è stato attivato il reddito di cittadinanza è la stessa mentalità che la sinistra usa con il metadone di Stato. Che cosa fa il metadone? Mantiene le persone nella loro condizione di tossicodipendenza. A cosa serve il reddito di cittadinanza? A mantenere le persone nella loro condizione di povertà. Cioè a non risolvere il problema. Lei che cosa ci trova di così scandaloso? Io penso che il reddito di cittadinanza sia una misura sbagliata esattamente per questo. Perché penso che la povertà si sconfigga dando alle persone che sono in difficoltà la possibilità di migliorare. Diceva Amartya Sen, premio Nobel all'economia, non esattamente Giorgia Meloni, che la povertà in realtà non è la mancanza di soldi. La povertà è la tua impossibilità di migliorare la condizione nella quale ti trovi che è data dalla realtà che ti circonda. Quando io sento dire che per il Sud noi abbiamo il reddito di cittadinanza, vuol dire che stiamo dicendo a quelle persone che non possiamo migliorare la loro condizione. E quindi la politica sceglie di mantenerle in quella condizione che comunque non è una condizione ideale, magari per raggranellarci un po' di consenso, per poter contare sul voto di quelle persone. E questo io considero che sia scandaloso. Non è scandaloso dire che il reddito di cittadinanza ha la stessa mentalità del mantenimento a metadone. Scandalosa è una politica che usa la povertà delle persone e degli italiani. È questo che mi pare la cosa davvero incredibile. Dopodiché il Partito Democratico, che sta lì da giorni ad attaccarmi su questa materia, ma se il reddito di cittadinanza è una misura così buona, perché non l'hanno votato quando è stato istituito? Perché a me vale la pena di ricordare che il Partito Democratico votò contro il reddito di cittadinanza. Dopodiché anche lì per una poltrona, per stare al governo con il Movimento 5 Stelle, hanno magicamente cambiato posizione. Io non ho cambiato posizione mai, Fratelli d'Italia non ha cambiato posizione mai. Nell'attuale Parlamento è l'unico partito esistente che non ha mai votato né per introdurre il reddito di cittadinanza né per mantenere il reddito di cittadinanza, ma siamo coerenti. Io credo che il grande errore di fondo, per fare un ragionamento serio, sia che uno Stato giusto non mette sullo stesso piano chi non può lavorare e chi può farlo. O peggio con il reddito di cittadinanza, in alcuni casi, chi non può lavorare e chi non vuole farlo. Uno Stato giusto distingue i due piani e crea elementi di sussistenza per chi è in una condizione per la quale non può lavorare. Ma per gli altri tu devi immaginare degli strumenti che servano a garantire, a costruire lavoro. Allora quelle stesse risorse che noi stiamo mettendo nel reddito di cittadinanza, 10 miliardi l'anno, per disincentivare al lavoro. Perché quanti imprenditori ho incontrato che mi hanno raccontato che per esempio tutta la stagione estiva era impossibile trovare gli addetti perché le persone dicevano guarda io prendo il reddito di cittadinanza, se vuoi ti vengo a lavorare nel fine settimana in nero, chiedo scusa. Quindi grande disincentivo al lavoro, grande incentivo del lavoro nero. È stato un elemento drammatico che non ha fatto trovare al lavoro praticamente a nessuno, tolti i navigator che erano un'altra cosa assolutamente surreale. E quindi io continuo a dire che il reddito di cittadinanza così come è fatto va abolito. Si prendono quelle risorse e si danno alle imprese per creare lavoro e tirare fuori le persone povere dalla loro condizione di povertà e dalla loro condizione di vergognosa dipendenza nei confronti della politica che li usa per avere i voti. Allora il reddito di cittadinanza è una bandiera del Movimento 5 Stelle. Oggi Giuseppe Conte è intervenuto sull'argomento e ha difeso ovviamente la misura ma ha aperto a modifiche. Sentiamo. Sono gli stessi percettori del reddito che chiedono dignità sociale, vogliono lavorare, quindi dobbiamo migliorare questo aspetto sia con lavori socialmente utili e sia migliorare la possibilità di avere occupazione. Loro chiedono questo, vogliono dignità sociale, le dobbiamo dare. Quello che sin qui non ha funzionato sono state le politiche attive che sono in mano ai comuni e alle regioni e solo in minima parte all'Ampal che è un'agenzia nazionale. Su questo stiamo lavorando col Ministro del Lavoro ma questo significa affrontare in modo serio questo tema. Direttore. Onorevole Meloni, è corretto pensare che ci sia un retroterra culturale diverso? Cioè chi intende il lavoro come un fatto meramente salariale e chi invece si rifà la dottrina dell'umanissimo del lavoro e pensa che il lavoro sia una promozione di noi stessi. Noi ci proiettiamo con la famiglia, con i figli, con la solidarietà verso gli altri ma anche lavorando, completa il lavorare la nostra personalità. Io penso che sia assolutamente corretto ed è la battaglia che conduciamo perché questa sul reddito di cittadinanza è anche una battaglia culturale è una battaglia culturale sulla dignità delle persone. Io sto leggendo la propaganda di questi giorni, la sinistra dice la Meloni odia i poveri proprio perché io credo che ciascuno abbia diritto a un ascensore sociale a migliorare la propria esistenza, a partecipare alla comunità, a gettare il cuore oltre l'ostacolo a essere considerata, come dicevo prima, non una persona che non può essere salvata ma come una persona che può perfettamente migliorare la sua condizione e partecipare con la dignità, non della paghetta di Stato che ti passa di maio ma con la dignità di un reddito che tu produci, di un lavoro che fai di qualcosa che ti viene riconosciuto, questa mi pare la grande questione dopodiché ci sarebbe da discutere lungamente perché alcuni sostengono ad esempio che originariamente nell'idea diciamo di Casaleggio, di Grillo, il reddito di cittadinanza non fosse tanto uno strumento diciamo di sostegno alla povertà fosse piuttosto uno strumento immaginato in vista di una produzione meccanizzata che avrebbe via via sempre di più e spunto la forza lavoro quindi siccome si meccanizzano i processi e noi non avremo più tanti dipendenti nelle fabbriche, gli diamo il reddito di cittadinanza manteniamo tutti a 500 euro al mese e risolviamo il problema io non la vedo così, penso che certi processi che sono reali perché la meccanizzazione è vero che oggi all'aumento di produzione non necessariamente corrisponde a un aumento di occupazione ma allora quello deve incentivare la proposta dei fratelli d'Italia è un sistema di tassazione diciamo più assumi meno paghi cioè più è alta l'incidenza di dipendenti che ha in rapporto al fatturato e meno tasse paghi altrimenti noi continueremo a avere i colossi del web che hanno pochissimi dipendenti e non pagano le tasse e invece le aziende manifatturiere che hanno la tassazione al 47% non mi sembra una scelta intelligente se vogliamo parlare di questo parliamo di questo ma le politiche del lavoro non sono politiche assistenzialiste cioè sono due temi completamente diversi quindi l'obiettivo è trascinare persone chi non può lavorare va difeso ma chi può lavorare deve essere messo in condizione di lavorare deve essere garantito un sostegno, un incentivo dello Stato ripeto, se le stesse risorse invece di metterle nel reddito di cittadinanza per disincentivare il lavoro le avessimo investite con le aziende per favorire che quelle stesse persone avessero un posto di lavoro e potessero migliorare la propria condizione avremmo fatto una cosa stupida o avremmo fatto una cosa intelligente? io penso che avremmo fatto una cosa intelligente e nessuno mi convincerà del contrario nessuno mi convincerà che la misura del reddito di cittadinanza come è stata pensata è un modo per mantenere le persone nella loro condizione di povertà e dover dipendere dalla politica e questo la storia ha dimostrato un grande presidente americano del passato diceva bisogna aiutare le persone ad entrare nel ceto medio esattamente, invece noi siamo in un tempo nel quale purtroppo la povertà si moltiplica la ricchezza si accentra lo abbiamo visto anche nell'epoca della pandemia appunto i colossi del web sono l'esempio forse più lampante e rinunciamo a governare questi processi noi pensiamo, ecco, nell'ottica del Movimento 5 Stelle il processo ha accompagnato io non lo voglio accompagnare, lo voglio contrastare voglio immaginare degli strumenti che consentano alle persone di avere un posto di lavoro anche nella modernità, anche nella globalizzazione si può fare perché lo Stato serve per questo per decidere che cosa incentivare e che cosa disincentivare per decidere dove mettere le risorse e dove levarle e io la continuo a vedere così e ripeto, mi dispiace che tutti a parole dicono che il reddito di cittadinanza è una misura sbagliata come lo dicono chiaramente buona parte degli italiani perché poi lei abita in uno Stato noi viviamo in uno Stato che fa di tutto se vuoi lavorare per farti chiudere per cui se vuoi lavorare spacciato se non vuoi lavorare ti pago mi sembra una mentalità molto intelligente però mi dispiace che tutti dicono a parole che è una misura sbagliata ma tutti in Parlamento hanno votato per difenderla siamo al giro di Boa altro tema il Green Pass Draghi mi pare che abbia tracciato la linea sarà esteso anche da altre categorie di fatto una certificazione sembra fondamentale per la nostra vita quotidiana fino a che punto voi siete disposti ad opporvi? noi ci stiamo opponendo con gli strumenti propri della democrazia sono queste giornate nelle quali si sta discutendo in aula il decreto sul Green Pass e Fratelli d'Italia sta facendo la sua opposizione seria, senza sconti ragionata mi pare che stiamo anche convincendo qualcuno nella maggioranza atteso che qualcuno dei nostri emendamenti ha avuto parecchi più voti di quelli di Fratelli d'Italia perché anche qui il Green Pass è una misura vessatoria e inutile per quello che il governo dichiara Green Pass non è una misura utile a fermare il contagio il Green Pass è una misura che serve al governo a introdurre surrettiziamente l'obbligo di vaccinazione io credo che se il governo è sicuro di quello che sta facendo cioè della efficacia della campagna vaccinale che non metto in discussione allora se ne deve assumere la responsabilità se tu vuoi mettere l'obbligo vaccinale metti l'obbligo vaccinale io non sono d'accordo ma lo fai non metti l'obbligo vaccinale surrettiziamente rendendo la vita impossibile a chi sceglie o non può vaccinarsi o a chi sceglie di non vaccinarsi dicendo che è una misura che serve a fermare il contagio perché oggettivamente non è così tra l'altro se posso dire quello che sto leggendo poiché noi vediamo che con una buona ormai buonissima percentuale di italiani vaccinati cioè circa il 70% non abbiamo come era purtroppo si sapeva non abbiamo ottenuto il risultato che il vaccino ferma dal contagio oggi il vaccino sembra molto efficace nel fermare l'aggravarsi della malattia ma non nel fermare il contagio quando il governo ha dato tutti questi messaggi dicendo se voi entrate in un posto dove si accede solo col Green Pass avete la certezza di trovarvi tra persone non vaccinate o quando il ministro Bianchi dice tutti i ragazzi che sono vaccinati all'interno della stessa classe possono togliere la mascherina ma lo capiamo che questo ha portato gli italiani ad avere comportamenti sbagliati perché lei quante persone ha incontrato che le hanno detto sono vaccinata e si sono tolte la mascherina però il vaccino non ti fermava il contagio e infatti noi il contagio non lo abbiamo fermato allora anche qui sono due temi completamente diversi il Green Pass era una misura europea che io ho condiviso che serviva a garantire la libera circolazione delle persone in Italia solo in Italia vale la pena di ricordare e in Francia è diventata una misura che regola l'attività sociale la tua libertà la tua possibilità di libertà e non mi pare che sia un modo intelligente tra l'altro viola le norme in questo in questo senso diciamo le indicazioni dell'Unione Europea che dice il Green Pass non può essere utilizzato per discriminare tra vaccinati e non vaccinati il Green Pass non è una misura che può servire per limitare la libera circolazione delle persone serviva a fare esattamente il contrario il governo ha fatto un'altra scelta che è quella di non assumersi la responsabilità dell'obbico vaccinale anche perché perché poi uno le cose le deve dire come sono qual è una delle differenze tra diciamo quello che sta accadendo con il Green Pass cioè un vaccino è che quando tu che diciamo se non lo fai non puoi uscire di casa ma quando vai a farlo firmi uno scarico di responsabilità ok qual è la differenza tra questo e l'obbico vaccinale che in caso di obbico vaccinale la legge è chiara sul fatto che il governo se ci dovessero il governo o le case farmaceutiche se ci dovessero essere problemi devi essere risarcito è vero che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che in realtà allarga il campo ma la legge non è chiara come lo è nel caso delle vaccinazioni obbligatorie allora perché il governo non ci dice per esempio con chiarezza che nel caso in cui dovessero esserci problemi derivanti dal vaccino lo Stato si assume le responsabilità delle scelte che sta facendo perché queste sono cose che allontanano i cittadini dalla campagna di vaccinazione anche qui io vengo definita ormai no vax perché mi permetto di fare queste valutazioni lei però si è vaccinata sono vaccinata mia figlia fece più delle vaccinazioni che erano obbligatorie per legge per cui io proprio no vax non sono ma non sono manco cretina per cui quando mi si danno risposte che non sono sensate a domande che sono sensate non mi si convince allora io penso punto primo che il fatto di concentrare tutto sulla tema del Green Pass sia una arma di distrazione di massa per distogliere l'attenzione dei cittadini dal fatto che il governo non sta facendo neanche quest'anno quello che serviva per metterci in sicurezza alla riapertura i mezzi di trasporto il più grande cluster dall'inizio della pandemia non sono stati potenziati le scuole secondo grande cluster della pandemia non si è fatto assolutamente niente avevamo proposto ad esempio l'aerazione meccanica controllata cioè strumenti efficaci per combattere il contagio non è stato fatto assolutamente niente non parliamo del tema della difesa dei confini perché avete visto che cosa è successo e sta succedendo sull'immigrazione incontrollata e cioè che entrano migliaia decine di migliaia di persone che si rifiutano di fare il vaccino che si rifiutano di fare il tampone e poi si danno alla macchia il governo tutto questo non è stato in grado di farlo e distoglie l'attenzione parlando solamente del tema del green pass temo che non sia efficace perché intanto purtroppo il contagio continua a correre quindi o il governo ha deciso che se il vaccino ci mette in sicurezza dalla terapia intensiva e dal rischio di decesso va bene tanto le persone non muoiono più non si ammalano più gravemente e quindi il contagio non è più particolarmente rilevante ma non mi pare quello che il governo sta dicendo oppure quello che si sta facendo oggettivamente non ha alcun senso il green pass non ha alcun senso scusate dico due cose molto veloci se entri nel bar e vai a prendere il caffè al bancone non ti serve il green pass se nello stesso bar ti metti seduto sì qualcuno mi dice l'evidenza scientifica di una norma del genere se vado a mangiare al ristorante mi serve il green pass ma se il ristorante sta dentro a un albergo no se devo prendere un treno a alta velocità Roma-Milano mi serve il green pass ma se devo prendere alla metropolitana no lo sai che ha detto il ministro Giovannini ieri ha detto il green pass nei mezzi pubblici non garantisce più sicurezza no scusate ma se non lo garantisce sui mezzi pubblici perché lo deve garantire al ristorante cioè ma voi capite la follia di queste di queste misure di queste dichiarazioni che voglio dire io non è che sia una persona particolarmente intelligente come lo capisco io lo capisce qualsiasi cittadino medio che questi stanno andando a tentoni e non sanno che cosa fare però allora credo che l'approccio dovrebbe essere diverso e chiudo davvero la differenza sostanziale tra noi e la sinistra è questa io penso che ai cittadini se tu dai informazioni chiare e gli spieghi come stanno le cose e dici la verità i cittadini sono automaticamente portati a prendere comportamenti virtuosi lo abbiamo visto in tutta la fase della pandemia la sinistra pensa che ti deve educare come se tu fossi un bambino e che ti deve educare se è necessario con la menzogna e questo io non lo accetto alla vigilia dell'attentato dell'11 settembre si apre il processo a Parigi all'unico terrorista sopravvissuto all'attacco del Bataclan Salah Abdeslam torniamo con la notte a Parigi con queste immagini di Julio Tosti S'il vous plaît qu'est ce qui se passe cazzo Una notte che la Francia e l'Europa dimenticherà difficilmente Salah Abdeslam nei suoi giri era passato anche dall'Italia Lei vede un rischio e teme un ritorno del terrorismo? Assolutamente sì, tra l'altro ricordo benissimo quella notte perché incredibilmente ero a Parigi ero a Parigi per il fine settimana e quindi ricordo molto bene la paura, la desolazione della mattina successiva sembrava un altro mondo credo che siamo in una fase molto complessa credo che quello che è accaduto ad agosto con il rovinoso ritiro americano dall'Afghanistan sia stato un segnale devastante credo che di debolezza dell'Occidente credo che l'avanzata talebana inevitabilmente rischia di far alzare la testa al fondamentalismo ormai molto diffuso credo che le conseguenze geopolitiche della gestione americana di questa vicenda saranno importanti, enormi verrebbe voglia di dire in tutto il mondo islamico ci sono gruppi terroristici o fondamentalisti che ritengono di dover avere come obiettivo quello di sovvertire governi considerati troppo moderati e quindi sono tutti elementi che vanno considerati credo che vada considerata anche l'avanzata cinese la Cina ha già mandato a dire per intenderci ai talebani che non solo possono contare sulla diplomazia cinese ma che possono contare sulle risorse cinese e devo dire che mi spaventa molto l'approccio dell'Europa perché in tutto questo noi in tutta questa vicenda che di fatto rivede tutti gli equilibri geopolitici abbiamo visto un'Europa che parlava solo di corridoi umanitari che per carità è un tema importante ma non è che siamo la croce rossa cioè il ruolo dell'Europa dovrebbe essere anche quello di farsi delle domande sul piano della geopolitica infatti voi avete posto il tema dei flussi migratori che queste state sono aumentate e che potrebbero aumentare ulteriormente alla luce di quello che è accaduto in Afghanistan il riflesso poi c'è la vicenda interna del ministro Lamorgese sono tanti anni che Fratelli d'Italia sostiene ma banalmente perché sono per esempio report dell'intelligence di diverse nazioni che diciamo il terrorismo fondamentalista utilizza il caos prodotto dall'immigrazione irregolare anche per infiltrare voi parlavate degli attentatori del Bataclan ma è uscito da non molto che l'attentatore di Nizza era sbarcato in Italia quindi è stato dimostrato che all'interno di questa situazione caotica chiaramente è facile infiltrare persone che poi vanno a scorrazzare in Europa e a fare attentati in giro per le nostre comunità mi pare che non si sia mai voluto affrontare anche questa cosa è sempre stata negata in tutto questo noi abbiamo una situazione per la quale in Italia agli italiani è impedito pure appunto di mettersi seduti quando prendono il caffè se non hanno il certificato verde e poi da gennaio a settembre di quest'anno sono entrati 40.000 immigrati regolari cioè il doppio dello scorso anno e otto volte tanto il 2019 di grazia ma il ministro Lamorgese che era così rigido quando rincorreva gli italiani col drone sulla spiaggia durante il lockdown che multava i ristoratori che manifestano distanziati contro i provvedimenti del governo con 500 euro cada uno e poi consente a queste persone di entrare liberamente sul nostro territorio nazionale di rifiutarsi di fare il tampone di rifiutarsi di fare il vaccino e di fare quello che vogliono è un ministro degno noi la invitiamo a un confronto con il ministro Lamorgese ma guardi quando vuole un confronto con il ministro Lamorgese perché scusi io sono rimasta francamente basita quando ho sentito il presidente del consiglio Mario Draghi governo dei migliori dire la Lamorgese ha lavorato benissimo perché se la Lamorgese lavora benissimo scusi io ho qualche dubbio la pensa c'è qualcun altro che la pensa come Mario Draghi sul fatto che la Lamorgese ha lavorato benissimo i fattoni di tutta Europa che sono venuti a fare un rave party a Viterbo e che hanno bivaccato per sei giorni con gente morta stupri droga gente che ballava ammassata addirittura pare scortati scortati dalle nostre diciamo dal ministero dell'interno io me li vedo lì i fattoni di tutta Europa che dicono dove andiamo a fare in Francia no che sei matto in Germania no che sei matto andiamo in Italia dove c'è la Lamorgese che fa un ottimo lavoro allora rimaniamo sulle donne afghane perché oggi hanno manifestato per rivendicare i loro diritti mentre il vice capo della commissione cultura dei talebani ha deciso per loro di vietare lo sport con la motivazione che espone il corpo delle donne fermo restando che non possiamo lasciarle sole io vorrei farvi vedere una foto perché lei è Arianna Sayed vediamo questa foto è un selfie che lei ha scattato è una cantante pop mentre lasciava il paese la vediamo? ce l'abbiamo? eccola qui la vedete che scatta questo selfie con tutte le persone che sono riuscite a lasciare il paese allora lei era una cantante pop vediamola in un paese in cui i talebani vietano la musica e alle donne di salire su un palco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti la gioia della musica è di esibirsi in un paese in cui fino a che ci saranno i talebani non si potrà più fare ci potrebbe essere spazio per donne come Arianna in Italia? ma io penso di sì assolutamente voglio dire ci sono casi per i quali soprattutto insomma per le persone che hanno collaborato con l'Occidente l'Occidente l'Europa devono garantire la propria capacità di di essere insomma di difendere queste persone cosa diversa è sostenere la bizzarra sì che noi possiamo trasferire 30 milioni di potenziali afghani in Europa non mi pare questa diciamo una ipotesi intelligente e mi pare un modo per giocare con la vita di queste persone una volta tanto io forse per prima qui in Italia ho detto che secondo me l'Europa doveva avviare un piano di sostegno per le nazioni confinanti con l'Afghanistan per diciamo accogliere i rifugiati sono stata come al solito guardata dall'alto in baso alla sinistra che proponeva questi non meglio identificati corridoi umanitari e poi la posizione di Fratelli d'Italia è curiosamente diventata la posizione del Consiglio Europeo quindi forse le nostre diciamo proposte non sono così peregrine il nostro tempo purtroppo è finito però noi ci lasciamo con la speranza che Arianna possa tornare a cantare e possa anche farlo nel suo paese grazie grazie a voi grazie a voi a domani buonasera a tutti grazie a tutti